Da quanto tempo è che lavori in lavanderia? 17 anni E ti piace? Sì Cosa fai in lavanderia? Divido la roba, stiro il mangano piccolo Che cos'è il mangano piccolo? Dove stiri i tuoi oli Che ora arrivi al mattino? Alle 9 e mezza E lavori fino alle? Fino alle 4 e mezza Tutti i giorni? Sì Sabato e domenica anche lavori tutto il giorno? No, sabato e domenica lavoro a casa Lavori a casa A casa dove? A casa famiglia da Daniele Claudio Faccio le pulizie Stendo la roba Toggo la roba asciutta Quindi fai il lavoro di lavanderia anche a casa? Sì Hai imparato bene questo lavoro Lo fai anche a casa E con la lavanderia andate anche in gita? Sì, siamo andati in gita A Spezia Siamo andati a Cremona Sì? A vedere la cooperativa E avete visto anche Cremona? Sì Bella Cremona Tutta la città